Ciao a tutti i due versi, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Pikachu, pika 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 Allora, oggi come avrete capito dal titolo, siamo in un server ricco per andare a scambiare il nostro, il fantastico, il mitico Candy Cannon Vediamo cosa ci soffrono E ragazzi, nei commenti del video in cui vi ho chiesto che cosa devo accettare, mi avete detto cose assurde Sono qui sul sito e sono pronta, sono carichissima e se lo siete anche voi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso Iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella Instagram e TikTok, li troverete giù in descrizione Come giù in descrizione troverete il sito delle nostre magliette, il merch Neverstop Dreaming e anche Instant Gaming Come al solito, i Robux in sconto Allora, noi iniziamo ad andare su Claim perché ci connettiamo per il 398esimo giorno E siamo a 196 stelle Quindi ok, andiamo su Close Com'è chi c'è? È diventato Teen È diventato più Teen In realtà ragazzi, noi dobbiamo andare anche un attimo a reagire Ah, aspettate, c'è il nome dorato Ok Dobbiamo andare a reagire all'aggiornamento, al trailer dell'aggiornamento che ci sarà oggi pomeriggio Quindi io in realtà devo riuscire ad entrare in un server dove ci sono i pet buoni 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 Qui vedo un solo Bat Dragon Non so Non so come fare Io devo andare nel server con gli Shadow Con assolutamente Shadow e così via Quindi nel dubbio cambiamo server E ok, mentre aspetto di accedere al server andiamo un po' a vedere questo mini video Halloween update Jessie here Sul canale ufficiale di Play Adopt Me Allora sono pronta raga Qualità massima, ok Iniziamo Ok raga Vabbè Ok Ragazzi mi dareanno le mani Mamma Ok Oh Troppo veloci, sole Abbiamo Oh mamma Allora aspettate Abbiamo nuovi giocattoli Questo è un plush Dimmi da un plush Ditemi che è un plush ragazzi Ditemi che è un plush Passeggino a forma di cappello di strega Bah Allora Vabbè Queste sono le cose per vestire i pet No Jessie Che ci fai qui Jessie Ok Allora Guadagna soldi Combinando i funghi Per fare le pozioni Uh E rincorri Il uomo senza testa Per prendere Ok Scorpione Non sono una fan degli scorpioni Ma devo dirvi la verità Sembrato a povarino Shop Cat box Ragazzi Era la cat box Allora 70% di avere Il black cat 25% Il white cat E poi abbiamo Il blue cat 5% Quindi saranno Raro Ultra raro Leggendario Per forza 600 candy Non sembra tanto Soltanto per i prossimi Oh 1250 robux Sono tantissimi ragazzi Per tre settimane Ci sarà il ghost dragon Ok Evil Dash hand Cioè il cane Cano infernale Ghost dragon Skele dog E scorpio Ok Più gai Quindi abbiamo 4 pet Più i 7 pet Ok Wow Allora L'aggiornamento inizia Oggi 28 ottobre E finisce Il 18 novembre Quindi tre settimane Ok Alle 5 5 e mezza Fa Come al solito Ok Quindi queste sono le pozioni Questa ti fa girare le cose attorno Mentre questa Ti fa uscire la testa di cane No Fighissimo Wow Bello 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 Cioè quel ghost dragon Che non mi ispira nulla Però bello 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 E io sono Altra il tunesimo dettativo Scherzavo Non sono stati Di di sala E ci siamo già connessi Ok Fantastico Fantastico Per qui ragazzi Oh mio Ironman Che Tiene un caldo ragazzi Assurdo Allora No thanks Close Vieni con me Ma anche se attualmente Non mi servi Andiamo al centro E vediamo com'è la situation Qualcuno sta scambiando La lanterna cinese No dai raga Proviamoci Io direi Proviamoci E poi cambiamo server A sto punto Almeno a provarci un pochino Ok Abbiamo già una richiesta Mammut Neon flyride No grazie No vabbè raga Questo server Non è niente di che OMG franci Abbiamo nuvoletta 2000 Ciao nuvoletta E anche Beark Y No Purtroppo no ragazzi Vi conviene cambiare server Qui comunque C'è qualche pet buono Dai proviamoci Anche se non sono i pet che cerco Però Proviamoci Attiviamo un po' di attenzione Ok vai Cosa mi dai Cosa mi dai No grazie No grazie No thank you No thank you So sorry Hai messo i metalogs Lo scriviamo Trade Candy Cannon Ciao Abbiamo un fan Ciao Wadi Ragazzi mi si è avvicinata La ragazza Con la giraffa Beh raga Beh avete detto Che però Io posso accettare Uno shadow Quello è il problema Cioè se io metto Tutto Everything Al primo posto E al quinto posto No io vorrei Ragazzi Io vorrei uno shadow Cioè per quanto Ha fatto anche Yad Ragazzi È assurdo Ma io vorrei lo shadow E questo è il cacchio Di problema Vorrei lo shadow E il bat Il La giraffa È un po' troppo giù No Però Ah ragazzi Ma questa mi ha offerto La giraffa Più tutte quelle aggiunte Che Oh mamma Mi sono sentita Cioè mamma mia Stai facendo Trade con qualcun altro C'è un'altra giraffa Proviamo a riscriverlo Cioè Solo altrimenti Ricambiamo server Cioè Allora Questa posso fare Duplica pannello Ok Per farmi Un'idea super veloce A volo a volo Che nessuno Non sta scrivendo niente Quindi Ok Poi penso Ricambiamo server Raga No ci conviene Ricambiare Purtroppo Dato che posso Tenderò a cambiare server Più che posso Capite Quindi No declina Butt dragon Ok è arrivato Butt dragon Vediamo un po' Vediamo un po' Anche se Senti Già ci abbiamo provato Mi sa Ok No grazie Can I offer Certo che puoi Or tu Con la giraffa No grazie Se tu che avevi scritto Che ne ho Si Vai Giraffa Full grow fly Mi hanno offerto Già due Due giraffa Raga Purtroppo Io voglio Il pat dragon Ho Uno shadow E' questo Che mi frega Ricambiamo server Sì Secondo me ci conviene Ricambiare server Ed eccoci Tornati No Tu vai via Trading Ossi Ok 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 Vediamo un po' Ok Vai Vai Dove sono gli shadow Qui ci sono ben tre Giraffa Comunque non è ciò Che mi interessa Bella offerta Mano grazie Nice offer But No Thank you Qua Questo è quello Che mi ha fatto Ma 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 No No thank you Ti adoro Chi abbiamo Non lo so Chi ha scritto Alex Roblox Giraffa Guardian Lion No thank you No thank you Ma questo io non lo so Oddio santo Allora fly Abbiamo fly Ride Non è full crew Ok Guarda Sono tentatissima di accettarlo Soltanto Non lo so Io ambisco Al Ambisco Molto A Forse andava bene Raga Secondo me forse la dovevo accettare Quella lo sapete Non lo so Secondo me posso avere Forse no Se l'accettassi Cioè Io dicevo Il Bat Dragon Ma pensandoci Il Bat Dragon È Meglio Del Ma no grazie Io vorrei Un Neon Bat Dragon In tutta sincerità Vedete Vorrei Lo so che magari Di franci Ma non ci va Cioè Proviamo a metterlo Su se Se metto Un Neon Bat Dragon Asfizzio Fly Ride Ok Win Quindi forse poi In quel caso Io dovrei Aggiungere Però io questo Vorrei riuscire a scambiarlo Per un Neon Bat Dragon E lo so che Subito Che potrei avere meglio Ma non Cioè Lo so che Quell'offerta Era fantastica Avrei dovuto Accettarla La sua offerta Però Ciao Franci Abbiamo anche Croissant Crostatina Crostatina Ciao Crostatina Anche questa Offerta Bellissima Ma non Thank you Neon Binomo Anche Neon Ninja Anche Wow Belle offerte Ragazzi Mi stanno facendo Davvero Delle bellissime Offerte Solo Non lo so Sono l'indecisione Fatta Per Già ce l'ho No thank you Già ce l'ho Sono così Indecisa Non so se voglio Riprovare a cambiare Server Perché comunque Questo è un server Fantastico Però Nella fine C'è solo un Bat Dragon E non ce ne sono Di Neon Io vorrei provare Ad accedere Prima a un server Dove ci sono Neon Bat Dragon Troppo Potrei provare Prima lì E poi capire Se ne vale La pena O meno Comunque Quello lì Era stato Un grandissimo Trade Una grandissima Offerta Ma Secondo me Posso avere Di più O meglio Capite No grazie Tesoro Ok ragazzi Purtroppo Ho alzato Troppo L'asticella E quindi Non riesco A scambiarlo Perché Voglio Troppe Cose Oppure Voglio Cosa Che valgono Di più Non lo so Però ragazzi Secondo me Questo posso Scambiarlo Per qualcosa Diffico Semplicemente Non ho avuto La fortuna Di entrare In un server Ricco Solo per questo Altrimenti Ce l'avrei fatta Altrimenti Lo avrei scambiato Secondo me Voi che cosa ne pensate Fatemelo un po' sapere Lasciate un bel Mi piaccio Iscrivendovi Anche al canale Se non l'avete già fatto Tappando qui sul pallino Ma anche per vedere Altri video presenti Sul mio canale Cliccate qui Sulle miniature Io vi saluto E ci vediamo Domani alle 15 Con un nuovissimo video Ciao